Lo Zibaldone è un capitolo molto affascinante della vita di Leopardi, della vita segreta direi, perché si tratta di un manoscritto che si è portato dietro per gran parte della sua vita dovunque andasse e nessuno ne ha mai saputo nulla, finché non è stato ritrovato tra le sue carte dopo la sua morte ed è stato pubblicato per cura di Carducci all'inizio del novecento. È nato nel 1817, Leopardi aveva appena 19 anni, con alcuni appunti che ha preso senza direi avere un piano preciso sulle sue carte, appunti vari di estetica, alcuni versi, alcune considerazioni, eccetera. Nel gennaio 1820 c'è stata una svolta perché in questo manoscritto appare la prima data e poi a partire da lì tutte le sue note sono state sempre puntigliosamente datate e in effetti lo Zibaldone è cresciuto negli anni ed è diventato qualcosa di straordinario anche dal punto di vista quantitativo. Leopardi lavorava su quaderni, su fogli che ritagliava, riutilizzava lettere. L'origine della scrittura dello Zibaldone nella critica ha trovato delle giustificazioni, delle risposte di un certo tipo, per esempio che Leopardi voleva scrivere un dizionario filosofico, filologico alla paniera di Voltaire, sollecitato in questo dall'editore Stella di Milano con cui era in contatto, ma in realtà l'operazione è molto più vasta. Per avere un'idea dell'attività che Leopardi ha riversato nella stesura del suo diario segreto possiamo dire che nel solo 1821 ha scritto oltre 1500 pagine e nel 23 in un altro anno d'oro per lo Zibaldone ne ha scritte più o meno altrettanto. Pensiamo cosa vuol dire scrivere migliaia di pagine e manoscritte col pennino in anni in cui faceva anche altre cose, scriveva moltissime lettere, componeva altre opere. Leopardi ha portato con sé lo Zibaldone in tutti i suoi viaggi, prima a Roma nel 22-23, poi a Bologna, Milano, Pisa, a Firenze le ultime note. Pensiamo che allo Zibaldone Leopardi ha dedicato quasi tutta la vita, dal 1817 al 1832. Quindi si trovava in mano questo enorme manoscritto, 4526 pagine, quindi pensiamo anche una mole da trasportare notevolissima, di materiali i più diversi, i più vari, che spaziavano dalla letteratura, alla filosofia, alla linguistica, alla politica e quindi è difficile orientarsi, è come un labirinto. Nel 1827 ha lavorato per molti mesi a un indice molto dettagliato in cui ha annotato tutti gli argomenti che aveva toccato in questo Zibaldone, con l'idea probabilmente di cavarne fuori alcuni libri. Leopardi aveva programmato dei percorsi interni al testo che anche attraverso la sua scrittura erano riconducibili a se stesso, cioè al dominio dell'autore sulla materia, attraverso un gioco di richiami e di rinvii sempre pertinente, a loro volta lemmatizzati, cioè un'opera di matematica, un'opera come una scrittura computerizzata. computerizzata ecco.